Sport, salute, ecologia e solidarietà sono i cardini della undicesima edizione della Cagliari Respira. La Kermess, organizzata dalla Cagliari Marathon Club di Paolo Serra, è in programma sabato e domenica nel capoluogo. Vedrà il via circa 3.700 atleti suddivisi nelle quattro categorie in gara. La Kids Run, in programma per sabato pomeriggio, la 6 km non competitiva aperte a tutti, la 9,9 km Cagliari Sir Run e la consueta 21 km. Quest'ultima, un giro unico tra via Roma, Piazza Iene e lo splendido polmone verde del Poeto. avrà tra i partenti big della disciplina nazionale e internazionale. Oltre 200 dalla penisola e ben 10 nazioni rappresentate. Fa ripuntati sul portacolori della Cagliari Marathon Club Said Budalia, su Pasquale Rutigliano, ma anche e soprattutto sul campione italiano Fidal 2018 di mezza maratona Haem Edmal Mazzuri. Azzurro che sarà al via nella 9,9 km in preparazione ai campionati europei di cross in programma domenica 9 dicembre. Nella splendida giornata di sport, mille oramai consueti ingredienti, come la collaborazione con le 9 associazioni benefiche e con le 11 band musicali che avranno il compito di animare una città già in festa. L'undicesima edizione è stato un crescendo appunto sia di numeri ma soprattutto di popolarità della manifestazione. È uno staff rodato sicuramente e non smetterò mai di ringraziarli quotidianamente. Però sicuramente la città di Cagliari favorisce attraverso i suoi scorci particolari, diciamo, monumenti e quant'altro, il Poetto, il Parco del Molentargius eccetera, contribuisce a far sì che appunto questa possa essere una bella vetrina. 4.000 persone, quali sono le novità? Intanto si parte e si arriva all'interno del quartiere feristico, so che era qualcosa che volevi anche questo. Sì, ci avevo sempre pensato effettivamente. Sebbene alla fine abbiamo iniziato, diciamo, nel 2010 con il Campoconi, abbiamo proseguito fino allo scorso anno. allo stato attuale per problematiche varie, diciamo, abbiamo dovuto adottare un piano B, quindi con l'utilizzo della fiera che invece ci offre l'opportunità dal punto di vista organizzativo di coprire alcuni bug sicuramente. Ci sono ampi spazi, possibilità di segretterie, di stand eccetera. La combinazione è stata che Ahmed El Masuri appunto venga allenato proprio da Saeed Budalia. Non è una combinazione, ecco. Ahmed vive a Bergamo, invece Saeed a Belluno, però di fatto le distanze si sono accorciate semplicemente perché è un ottimo tecnico Saeed Budalia e quindi in sei mesi è riuscito a ricostruire un atleta importante anche per la nazionale italiana, evidentemente visto che farà gli europei di cross la settimana dopo.